Un'altra cosa, un altro tema molto interessante legato al Green Pass è se il Green Pass, qualcuno ha posto questa domanda, fosse l'antisignano di una tessera non aria e guardate che non è un'espressione a caso perché noi siamo in una guerra continua, passiamo di guerra in guerra, la guerra al virus, la guerra a Ucraina-Russia, la guerra al cambiamento climatico. Allora se questo Green Pass fosse l'antisignano di una tessera con cui si razionerà energia, cibo, beni di prima necessità, guarda caso è uno strumento che è nelle mani dell'agenzia delle entrate. Se verrà collegato al pagamento elettronico, altro argomento di oggi, non di due anni fa, se diventa il mezzo con cui si possono bloccare le transazioni sulla base di criteri X. E questo per restare diciamo alla parte operativa, che già di per sé è grave, però poi senza contare i danni, le conseguenze culturali di quello che abbiamo vissuto, perché questi due anni di pandemia hanno sdoganato quella che viene chiamata la permacrisi, no? Cioè l'idea, l'accettazione nella testa delle persone è che siamo in una emergenza permanente. Non a caso siamo passati dal Covid alla guerra, all'emergenza climatica, adesso ci saranno non so cos'altro, l'emergenza alimentare, insomma siamo entrati nell'era delle crisi permanenti, delle emergenze continue. Queste emergenze che cosa fanno? Legittimano cambiamenti che prima erano impensabili. Prima il lockdown, poi l'imposizione di un trattamento sanitario addirittura obbligatorio per lavorare, poi l'entrata in guerra, di fatto, del nostro paese in un conflitto che è nel cuore, si gioca nel cuore dell'Europa, senza che il Parlamento decidesse nulla. C'è, ecco, poi un ribaltamento delle politiche energetiche. C'è, ecco.